Una buona serata, ben ritrovati in diretta con l'approfondimento sportivo della domenica. L'argomento è quello di questi giorni, vale dire l'emergenza del coronavirus che ha portato allo stop dell'attività sportiva in generale, nei campionati di calcio, a quelli di basket, pallavolo, eccetera, eccetera. Tutto fermo, tutto rinviato in questo weekend. Ci si chiede che cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Noi abbiamo in studio, proprio per trattare questo argomento, il segretario di Stato allo sport, Teodoro Lonfernini. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Buonasera segretario. So che sono giornate particolarmente impegnative, convulse. Il congresso di Stato si è riunito nella giornata di ieri per la prima ordinanza, quella che prolunga la chiusura delle scuole. Altra riunione nella giornata odierna, anche perché la situazione è in continua, evolversi e soprattutto è purtroppo anche in peggioramento. Segretario. Beh, sì, è così. Ormai è una settimana che l'intero congresso di Stato si è affiancato al lavoro del collega alla Sanità per riuscire a condurre al meglio tutte le questioni per affrontare l'emergenza. Il congresso di Stato si riunisce ogni qualvolta vi è la necessità, da un punto di vista proprio dell'esecutivo politico, per supportare anche il lavoro del gruppo di coordinamento, il tavolo delle emergenze, attraverso l'emissione di determinate ordinanze. Dalla scorsa settimana vige un'ordinanza ben precisa, nella quale abbiamo ottemperato anche noi come sistema territoriale a quello che erano le disposizioni delle regioni a noi vicine. Siamo con loro in strettissimo contatto, lo siamo per tutti gli aspetti che riguardano le nostre comunità, senza ombra di dubbio, a partire chiaramente dal circuito scolastico a tutte le strutture di carattere di sistema paese e di comunità, compreso quelle di carattere sportivo. Ecco, Segretario, le chiedo che cosa accadrà domani per quanto riguarda l'aspetto sportivo, perché in questa settimana si è deciso di fermare tutto, impianti sportivi chiusi per qualsiasi tipo di attività, dalle gare agonistiche ma anche agli allenamenti, tutto chiuso in questa settimana. Ci si chiede se dalla giornata di domani, dai prossimi giorni, gli impianti saranno accessibili almeno a chi svolge attività agonistica. Che cosa ci può rispondere? È una valutazione che stiamo facendo proprio anche in queste ore e continuerà anche nelle prossime nella serata, semplicemente perché nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle, la prima settimana dove il nostro territorio era coinvolto attraverso l'attività virale, io credo che giustamente abbiamo adottato la scelta, come è stato per tutto il circuito scolastico, di chiudere le attività di carattere sportivo, ricreativo, ludico in generale, comunque a partire anche dall'utilizzo dei nostri impianti sportivi pubblici. Ed è stata, credo, una scelta intelligente, semplicemente per una ragione, dobbiamo dare anche coerenza alle disposizioni, non possiamo pensare che chiudiamo le scuole e poi magari i nostri ragazzi continuano a svolgere un'attività ordinaria come se nulla stesse accadendo. Non dobbiamo nello stesso momento neanche vincere di fatto al timore, alla paura, al senso di oddio adesso che cosa ci può succedere se cerchiamo di mantenere anche una vita ordinaria. In quella vita ordinaria crediamo di poter fare una valutazione anche sull'utilizzo chiaramente degli stessi impianti sportivi, valutando specifica per specifica delle attività di carattere federale, di quelli che sono anche gli allenamenti dei nostri sportivi, di chi svolge un'attività agonistica ben precisa, di chi si sta preparando per esempio a degli appuntamenti. Valuteremo caso per caso, non perché dobbiamo per forza di cose mantenere una chiusura a prescindere, ma perché vogliamo valutare le cose in maniera estremamente intelligente nell'interesse della salute pubblica, a partire da quella dei nostri ragazzi, dei nostri sportivi che sappiamo le nostre strutture essere molto frequentate. Esatto, allora mi corregga se sbaglio, segretario, nel dire che magari dai prossimi giorni si potrà riprendere un'attività sportiva a limite a porte chiuse perché si deve allenare, sto parlando degli atleti agonisti, mentre per l'attività ordinaria probabilmente proseguirà quello che sarà il divieto di utilizzare tali impianti. Sull'attività ordinaria sì, nella maniera più assoluta, con un occhio di riguardo come dicevo prima anche proprio alle giovanissime generazioni, non vogliamo assolutamente compromettere nulla di quello che è stato fatto sino ad oggi in termini di loro protezione, non vogliamo neanche che sulla parte per esempio delle attività sportive dei nostri giovanissimi i genitori si allarmino, si preoccupino in ragione maggiore di quello che è una circostanza ragionevole. Dobbiamo mandare chiaramente, vogliamo mandare chiaramente un messaggio di ricerca di normalità in termini delle nostre abitudini però con grande, grandissima cautela valutando caso specifico di ogni attività federale. Quindi l'ordinaria continuerà a seguire chiaramente una prescrizione, le attività federali con una valutazione specifica da un punto di vista di allenamenti dei nostri sportivi agonisti, quella vedremo come riuscire a metterla in un nuovo circuito normale. Ecco segretario, vi siete già incontrati con i vertici del Comitato Olimpico proprio per prendere in esame questo delicato momento? Sì, quest'oggi i vertici del Comitato Olimpico hanno partecipato al tavolo del gruppo di coordinamento dove chiaramente si è elaborata la nuova ordinanza, dove si sta elaborando la nuova ordinanza ascoltando anche loro riflessioni, loro opinioni, loro osservazioni in merito tutto nell'interesse chiaramente del mondo dello sport, dei nostri sportivi, dei nostri ragazzi, delle nostre generazioni, dei nostri cittadini. Segretario, a fine mese, stiamo parlando di fine di marzo, ci sono degli appuntamenti sportivi a livello internazionale. Faccio un esempio, la Nazionale di Calcio ospiterà due amichevole, una con l'Albania e una con la Lettonia. Ci sono altri eventi in programma nelle prossime settimane e ancora presto per dire se questi eventi si faranno regolarmente oppure se c'è il pericolo di doverli rimandare? Ma è ancora presto perché sicuramente per quel tipo di manifestazioni di carattere internazionale sicuramente bisognerà ascoltare anche cosa gli organismi internazionali preposti diranno. Al momento stiamo chiaramente valutando che tutte le manifestazioni che si possono svolgere all'aperto in termini sportivi ma non in presenza di pubblico, chiaramente possa essere una di quelle specifiche da valutare. In fondo lo sta facendo anche l'Italia, lo sta facendo la regione a noi vicino Emilia Romagna, le Marche. Sebbene anche l'Italia credo che abbia rinviato partite di cartello importante da un punto di vista calcistico, credo che oggi sia troppo presto per valutare quello che faremo alla fine del mese di marzo, sperando che chiaramente questa ondata che in questo momento ci sta un po' coinvolgendo da un punto di vista di percorso e di passaggio virale possa chiaramente gradualmente allentarsi. Segretario, lei doveva partecipare al Salone Internazionale dell'Automobile a Genevra anche per parlare del ritorno della Mille Emilia a San Marino, anche questa grande manifestazione è stata rinviata proprio per questo motivo. Allora le chiedo se, guardando già al domani, al futuro, visto che questa emergenza sanitaria sta creando problemi anche all'aspetto commerciale e turistico della Repubblica di San Marino, se gli eventi sportivi in futuro potranno dare una mano, una grande mano anche alla ripresa dal punto di vista economico, turistico e commerciale. Io credo assolutamente di sì, perché comunque gli eventi di carattere sportivo sono un veicolo di grande interesse economico per tutte le realtà a partire dal nostro Paese, per cui la risposta è assolutamente affermativa. Dovremo forse rivedere un po' tutti quanti quello che sarà il panorama e la geografia della stagione 2020 da un punto di vista turistico e commerciale, ma in generale da un punto di vista economico, perché è logico che questo fatto di attività virale sta cambiando notevolmente l'aspetto dell'anno in corso e speriamo che non cambi di fatto magari anche con conseguenze che possono ripetersi negli anni successivi. L'importante è riuscire a ripartire come tutti stanno sostenendo, l'importante è non chiudersi in maniera fine a se stessa, riuscire a rispondere all'attività emergenziale e riuscire a mantenere un grande equilibrio nella conduzione delle cose. Assolutamente. Segretario, allora lei tra poco sarà ospite anche all'interno del telegiornale proprio per ulteriori dettagli su questa emergenza del coronavirus. Direi di chiudere però ringraziando chi sta lavorando in prima linea proprio per contrastare questo problema, questa emergenza. Senza ombra di dubbio il mio collega alla sanità e tutti coloro che sono intervenuti in questa sede anche in altre occasioni, credo che l'abbiano posto al centro dei loro ragionamenti e continuiamo come congresso di Stato a farlo. Rivolgiamo un grande sentito ringraziamento a tutti coloro che si stanno impegnando, a tutti coloro che sono in prima linea, in particolar modo i sanitari, i parasanitari, i medici, tutte le persone che sono davvero a contatto diretto con questo fenomeno e credo che lo stiano facendo, anzi ne sono sicuro, con un grande senso di dedizione, di passione e di grande professionalità. Perfetto, grazie al segretario di Stato dello Sport, Teodoro Lonfernini, per essere stato presente questa sera qui, ospite nell'approfondimento domenicale.